di chiusura e così via. Poi mi viene da chiedere perché i teatri e i cinema chiusi, cioè mentre quando c'è la zona gialla si aprono i ristoranti e va bene, mi sembrano molto più pericolosi i ristoranti dove comunque bisogna togliersi la mascherina per mangiare, mentre invece al cinema e a teatro ben distanziati si può andare anche tenendo la mascherina tutto il tempo, quindi sono posti molto meno pericolosi, molto meno assembrabili di quanto non succeda davanti ai bar piuttosto che ai ristoranti. Quindi lì mi porrei un pochino delle domande se è stata una scelta come dire lungimirante anche dal punto di vista del contrasto al rischio onestamente. Lei professoressa ha parlato della paura prima. C'è, ed è gravissimo.